Dispettiamoci di prima di altrimentarci al nostro rischio per essere lì perché quando io dormo, quando io parlo, quando io rido, e quando io piango quando io dormo, quando io parlo, quando io rido, e quando io piango le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa entrami viviamo da più di vent'anni ed entrami comunque da meno di tre non ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore e di soltanto le cose in comune, far con un elenco ci voglio un'armi con tre ore allora cosa è? andate l'amore cosa ci serve ancora? a me non è stata un'ora ma cacchio fate a saperla che non eravate neanche nanti di voi mi piacerebbe non è bastata un'ora le cose che abbiamo in comune ricordi sei tu che per prima l'hai detto dicevi ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto ad ogni domanda in un nuovo confermo, un identico ritmo divino e risale l'emozione di quel primo bacio, le labbra precisi, perfetti incollati adbracciarti, sognare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa intanto scoprire stupito e commosso che avrei dire se sei identica e rossi allora ti chiedono a me è sufficiente che ti serve per essere cieca con tutte le cose che abbiamo in fondo tu non mi fanno non sarebbe per te quando io dormo quando io parlo quando io rido quando io piango quando io schispio quando io banduzio quando gli occhi parla il tocchio quando gli occhi mi agghiaccio allora cosa è ce l'avete quasi fatto cosa ti serve un po' a a me è passata un'ora a casa nostra il basso elettrico lo suona Gabriele Lanzanotti a casa nostra